Allora ragazzi, bentornati con il simulatore dello streamer Grazie a tutti per i commenti, vedrò di portarvi qualche altra parte Vediamo, vediamo fino a che non ci rompiamo il cazzo, onestamente Perché sono altre serie in arrivo che voglio portare E mi aveva detto, un ragazzo fra l'arrivo mi aveva detto Devi accendere il computer, infatti non capisco come diavolo ho mancato sta roba Comunque E vediamo fino a... Oddio mio, si è incriccato Ho paura Nooo, ho levato lo schermo Ok, ma che è Windows 98, ma stai scherzando? È tutto giusto Vabbè, i tempi di caricamento sono di Windows 98 Ma che cazzo di sfondo è questo? Stream calendar Ah, possiamo anche farci il calendario dello streaming Guardate i minuti che passano come secondi È roba porno Vabbè, allora, dobbiamo entrare... Oddio Zorn Ab No, ma stai scherzando, spero No, ma mi sembra un sito di rivendita delle chiavi, non è porno Ce l'ha il collegamento a internet? In questa fottuta fogna c'è internet? Yes Oh lord Cosa? 30 giorni 180 dollari? Ma per forza 50 Ah, è questo il porno Cioè, ma stai scherzando? E questo... Cioè, io ho pagato 30 dollari per sta merda Ma stai scherzando? Ma cos'è sta roba? Mi me ne ho fregato Ma cos'è sta cagata? Ma cos'è? Ma cos'è questa merda? Neanche un video? Niente? Neanche un video materiale dei programmatori Ma vai a fare in culo, vai C'è lo speed test Sono curioso di farlo Perché vediamo quanto prende in questa fogna L'internet Però, a giudicare da quanto sta caricando sta merda di pagina Cioè, io direi che siamo attorno ai 10 mega Per 10-20 mega esagerando Oddio, neanche, guarda Ma come cazzo facciamo a fare uno stream decente? Me lo spieghi? Certo, un upload a un mega E riusciamo a fare uno stream decente? Cazzo Ma qua Questa è fantascienza, ve lo dico io Ma porco mondo Sì, ma chiudimi sta pagina No, 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 no Bank Scratch Non so Zamazur Sarebbe tipo Amazon Food Shop Crypto X Billboard Tournament Ah, questo è per la vendita Delle cazzo Ho vendito dalle cazzo YouTube Blackjack Subito Oddio Scommessa Vabbè, abbiamo Un 50 dollari Possiamo farlo, dai Ma non ti scommessa così, cazzo Eat Stand Eeeee Evviva Abbiamo vinto Viva Abbiamo vinto I should do my toilet Urgently Vabbè, vaffanculo Che mi frega Della tua Toilette di merda Ci devi pensare prima Deep web Build up Special Worker's card deal Blender Basta Ma c'è tipo un negozio Dove compri robe Basta Cioè ma Poi Ma dai Ma come cazzo fai A fare una porca merda Guarda Cioè raga Non ci sono le basi neanche Per fare una live Due mega Ma che è Ah beh Capito Minchia Ma stai scherzando Un grattevici 50 dollari Ma che è Ma manco per Ma manco per il cazzo Ma non scherziamo 50 dollari Un grattevici Cristo Cosa c'è Impalibus I'm watching stream right now Oh bene Register Ma come cazzo fai Ah devo tenere premuta Ok Ah Adesso posso fare il login Per il login Per il login Per il login Alla a prescindere Dovrei fare milioni Di Di visualizzazioni E follower No Stream E io quando lo faccio Lo stream Oddio ma Mi si vedrà in faccia Tipo Personaggio Oddio E personalizzali Aspetta No aspetta Facciamo sta roba Perché così me la levo di mezzo Questa cosa di Devo levarlo dalla mappa Tipo Una cosa del genere Fa vedere Done Download OPS program From the app Website Cioè è tutto Bellissimo Bellissimo Io ho paura di Allora From there Zamar Zamar Zamasor Website Cosa devo fare Comprare un microfono Eh mi sa che su Zamasor Che sarebbe Amazon Praticamente Mi sa che mi ci compro anche un cesso Se lo vendono Perché Game console Headset Joystick Micro microphone Scusa Ma non c'è un cesso Eh Eccoci Oddio 75 dole Eh minchia E madonna 540 Non lo so Madonna Ma Eh che cazzo di costi sono Porca droia Ne ho 400 Ne ho 400 Io di dollarini Sai che facciamo questo Dai Non è il massimo Però Madonna Qualità 2 Gli altri Gli altri li sperperò Con Col blackjack Magari riesco a farne altri Comunque Dobbiamo scaricare L'app Furniture Oddio No Frigo Oh Gesù Maria Oddio Il cesso Oh mio Eh madì Cioè Ma Ma stai scherzando Cioè Un cesso Mi costa Lira Di Dio Ma Scusa Guarda Ma che cazzo Cioè Ma che cazzo Ma che cazzo Vabbè Il frigorifero Ok Ma un cesso Di marda Ma poi dovevano essere presenti Già con l'affitto Di questa casa Ops Giusto questo Guardate Cioè Vabbè Guardate i nomi Spotirai Anziché Spotify Streamlap Avest Anziché Avest Miner Cazzo Questo è tipo Preminare i bitcoin Potremmo prenderlo VPN Vabbè Però Miner Non so quanti di voi Ci sono esperti Di computer Che sanno di Bitcoin E roba del genere Perché io so che I bitcoin Si possono minare No Questo è il termine Ma cioè Ovviamente Come cazzo si fa Cioè Mi è sempre intrigato Come si fa Ovviamente io non Non Neanche se me lo dite Ci riesco Ma io Avevo letto che si faceva Tramite calcoli Non mi ricordo Era un casino Roba di programmazione Cioè qualcuno di voi L'ho saggito È solo una mia curiosità E basta Di certo non mi ci metto Lì a fare Sta cosa Non ci riusci Neanche per sbaglio E a quanto ho capito Serve anche Un pc Molto potente I'm very angry I have to eat Certamente Guarda Cristiano Ma Senti un po' Ho visto che c'è Mi sa che l'ho vendita Di cibo online Forse devo scordinare Qualcosa da mangiare Da 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 Sleep and save the game Se rumore Porco mondo Schifoso Ah ok E qua Ora torniamo indietro Sono male io Madre di dio Ma un po' più Feloce Allora Food shop Ecco Stai la roba Magari compriamo qualcosa Cazzo È delicious meal Banana Ma qualcosa di più salutare Uno spaghettato Che cosa del genere Sono dolci Cazzo Pig Maiale Non lo so Beef jerky Vabbè Se siamo donati al computer Ci serve sta roba Una pizza Una pizza Sushi Un po' troppo Non se lo può permetter Vabbè Prendiamo il taco Così Non si fa una cagata a spruzzo Ok ma queste robe Poi dove Dove mi vengono mandate Ah me lo devono Ok Me lo consegnano a casa Voglio vedere la faccia Di chi mi consegna sta roba Aspetta Prima di andare Di chiudere tutto Andare a dormire Io direi Come fa ad andare a dormire Per questo qua Che c'è veramente Sto morendo di fame Povero cristo Un'altra puntatina O il blackjack Magari riusciamo A rotondare un po' di soldi E compriamo qualcosa Punto Ma cristo Arrivo Come si esce da questo schifo Ma il pacco è dove Ah così me lo C'è sull'erba Brutto stronzo C'eravano le formiche F F It Ah sono questo Seriously Oddio No Tu li hai toccendo Sto per implodere Scommettiamo Altri 50 dollari Minchia Ma per noi Non ho le scommesse laterali Sto Me l'ha messo in culo Repeat Oh shit No Ho perso Stand Pareggio Morca Monde Porca Troia Sono rimasto Con 65 dollari Shit Allora Asp 65 dollari Facciamo così Quanto questo Stronzo Morirà di fame Ma poi Come fa a cagare Cioè nel senso Non ho un cesso Ma cagati addosso Non me ne frega niente Non è una vasca Nel niente Poi Non lo sento L'odore Nello stream Quindi Ti puoi cagare addosso Quanto vuoi Guarda Me ne frega Devo comprare qualcosa Di un po' più Non lo so Tempuro mio Ma non ho visto la pizza Io no Non c'hai messa la pizza Oh c'è tutto Tra la pizza Porca La pizza Perché non c'è la pizza Maledizione al merlo Oddio Dovrei iniziare Ad andare a fare sposa Al market Perché sennò Guarda Oddio Mica non ho neanche messo il let To Dormi Night Briefing Deeply Fun dream Cos Ok Hanno suonato Cioè non è arrivato il mio ordine In una notte Ma sei matto You're sweating Stai sudando Oh finalmente C'ho un campanello addirittura Capito Mangia Mangia Ok Sono ready proprio Posso fare lo stream adesso Ok Tutte le missioni del tutorial Sono state completate E poi che faccio Steam key Oh berda Ciccio game Meno 89 Bene Mi fa piacere Perché il tutorial L'è completato Ma io come faccio Ad accedere qui Cazzo è sta chiave Job king Ok Su job king Probabilmente Potremmo trovare Un lavoro per noi Pizza 37 dollari Taxi driver Corriere Uber driver Waiter Non so onestamente quale 3 hours before the job you joined Ok Perché c'è tipo Steve Jobs qua Questo è Steve Jobs Ok non posso cambiare la vola Quindi dovrei fare appunto Il Il cameriere Scusate nel deep web Cosa dove trovarci Nel deep web Ora sono curioso Con 2 mega Senza neanche La vpn protection Ah ok Ecco il fatto Messaggio Porno Ok Alle 12 Che cazzo di ore sono adesso Scusate Bene Quindi praticamente Siamo già in ritardo Per lavoro Cazzo Mi è arrivato adesso Il messaggio Lo raccomando Ma che cazzo Mi ha detto Te lo mandiamo Il messaggio 3 ore prima Ma oggi o domani Devo mandarlo Vabbè Andiamo 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 a lavoro I Shwetted Displesi sotto Fa niente Aspetta Devo mettere Non mi ricordo Se lo da questa parte Ehm 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 Questa Era qua Tipo No Gesù Maria Vedete Vedete cosa succede Se non guardate la strada L'ora sta merda L'ora sta merda Arriva Posto di lavoro Mica Da qui arrivare I minuti Passano come secondi Da qui arrivare Praticamente L'ora di lavoro È finito Oh cazzo No Amica Mi si è bloccata La macchina Ma Cristo Eh vabbè Vaffanculo Arriva Il posto di lavoro 97 di vita Venga Mi sono fatto male E lavora per iniziare C'è ma Cristo Santo Però Scusate Ma non è normale Sta roba Vabbè Vaffanculo Allora Porco mondo Porco mondo C'è A saperlo prima A Cristo Vabbè Vaffanculo Adesso è venuto qua Per nulla Che top Eh Tua mamma troia Scusi signore Mi scusi Scusi Mi scusi Tra una mano Ok Ok Ecco Cosa devo fare La fine degli altri Allora Non so come fare La stream In realtà Vabbè Qua sono nel deep web C'è La stream Come porco mondo La faccio Cazzo Devo cambiare Anche la connessione Però C'è Oh cazzo Che succede Oh merda Che Cosa Mi era chiarato Per rubarmi 14 dollari Mario dei figli Di una cagna Oh che bello Show cam Oh mio dio Non ce l'ho Immaginatevi La bellezza Di vedere Quell'uomo Che abbiamo appena creato E qua non possiamo Fare un cazzo Perché non abbiamo Niente Abbiamo un mega C'è Veramente Pochissimo Giusto per curiosità No ma quanto cazzo Mi costa L'abbonamento Nuovo 10 dollari Al giorno 20 dollari Al giorno 30 dollari Al giorno Cristo Dondio Sto scherzando Turbo 5 download Più 3 di upload Cazzo ma quello è anche un Menta Chissà quanto C'è 2 mega Ma che è Che facciamo uno stream Al volo Non lo so 60 fps Possiamo permetterci Qualità Non so qualità 720p dai Stream setting Full screen camera Non ce l'ho la camera Ma non è anche il microfono In realtà Ma poi me l'hanno consegnato Il microfono Gazzu Cioè Scusate una cosa Ma il fottuto microfono Ah è qua Eh minchia Vi c'è la spazzatura Oddio Adesso abbiamo il microfono Cioè Finalmente Eh Microfono Test stream You can change Ditch Boh Cagare va Stream setting Ecco Normal camera Just chatting Game Just chatting Oh shit Quanta gente entra Nessuno Cioè Ma stai scherzando Che è sta roba Dai Entrate A parlare con moi Desommarie Non entra nessuno No one is watching you Streaming Wait simply Oh uno è entrato Total follower Uno Ho un follower Oddio fra un po' Per la domanda a letto Hello Mother Fuckers I think You're competing The trash Drop 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 Explain to them Ah Ok Di una serie ricevuta Amica Spero che siano 100 dollari Drop Dai Signori Devo andare a letto Fra poco Questi drop 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 This is Garbage Questa Spazzature Beh Il primo stream Diciamo che È già Una merda Lo fermo Basta Mi ero mandato Dei soldi Però Oddio La pancia Che implode Aspetta Eeeh Fammo così Così Lo faccio mangiare Sto idiota Per fortuna C'è del cibo Hit Andiamo a dormire Abbiamo bisogno Di energie Minchia Vero Devo ordinare qualcosa Prima di andare a letto Perché domani Mi sembra L'energie Per lavorare In teoria Ma se che prendo Qualche barretta energetica Non lo so Che costa Tutto un fottio Cioè Basta Cioè Poi piango Poi piango Se non lavoro domani Ok Fammo così Vado A dormire Vado a dormire Prima dormo Ma a che ora si sveglia Sto mente Cazzo Cioè Non capisco A che ora si sveglia Murmurs Cazzo Cazzo Ah che Chi sono adesso Ah ok Sono le nove Ok Poi devo arrivare In tempo Quindi Perfetto Ecco Eh si si Come no Ho visto che si è Ma va Fancula Dai Ma che mangio Ok Siamo carichi Di certo Non credo che Creerà problemi Al tizio che ci ha dato il lavoro Se arriviamo lì Tutti sudati Il nostro boss Ma dà No problemi Dai Insomma Arrivare tutti sudati Oh Gesù Che è successo Perfetto Ok È ora di andare a lavoro Non so che ne sono Però considerando Che passano Ok Dire di avvicinarci Perché c'è In tre ore Probabilmente c'è la faccia Ad arrivare in tempo Arriviamo Arrivo Posto di lavoro Arrivo Gesù Maria Oh Signore Come è slitta Sta macchina Vai 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 Oh Cristo Siamo della tundra Vai Che se la facciamo tardi Alla Minchia Guarda Veramente Ma un catorcio Più serio Non potevi comprarselo Cazzo E vai avanti C'è Veramente È uno schifo Sta macchina Io non ci credo Che esiste Una macchina Del genere Non esiste È impossibile Che esista Ops Ops Vabbè E lo parcheggio qua Ok Oh Cristo Don Deo Ma dobbiamo proprio Lavorare Ah no Finito Così Fantastico Quanto abbiamo lavorato Un'ora Abbiamo lavorato Un'ora Vabbè Dovrei Dovrei Metterli Madonna Posso comprarmi Le due robe Allora Mi l'ho dimenticato Di sta roba C'ho 860 Allora C'avevo i soldi In la carta Ma ne avevo anche in mano Cioè posso Ma porca Aspetta Posso solo caricare I soldi E basta Cioè posso solo prelevare Dal banco Matt Non posso caricare Ma c'è la banca Questa Ma figuriamoci C'è una banca Non scherziamo Tipo Qua c'è la banca Vediamo se riesco a Mandare soldi Qualcosa del genere Oh ecco Vedi Trasferisci Fatto Adesso ce li ho Tecnicamente nell'account Ok Ora lì ho nella carta Posso fare acquisti Del tipo Aspetta Possiamo comprarci Magari una webcam Un cesso Una doccia Un frigo Qualcosa del genere Allora Vediamo Il cesso Costava un Ma per neanche me ne sbatto Onestamente Del cesso Forse della vasca Mi interessa un po' di più 500 dollari Porco giudo Toh Questa Machine Lamp Ventilator Ma dai Ma dai Ma dai Cioè ma dai Ma serio GoPro Goero Goero P10 Dai cazzo Però c'è una qualità Infima bastarda No non le prendo Ste cose Allora Ordino del cibo Mi serve Del cibo Mi serve Però dato che Il tonno È molto Molto Da molto È molto saziante Per questo idiota No Anche il costo È abbastanza contenuto Quindi mi sa che Puntiamo al tonno Mi sa che proviamo Un po' di barrette Dai Barrette Non vanno a marcire No? Quindi Via Ma Ma cristo Di nuovo C'è mancherato Ma ci avevano il portafoglio Oh no Aspetta Qua è A Z C T A Z C'è un culo Da quando è iniziato Da quanto è iniziato Lo stream Porca try Oddio Bellissimo Dov'è che guardo la donazione Oddio Mi sa che dovrei sbagliare Dovrei sbagliare Dovrei cambiare le risposte Prendo sempre la prima Ragazze bellissime Aggiungetemi Donazione ricevuta Come cazzo faccio a controllarla Raga fra poco stacco Devo andare al lavoro Domani quindi Donazione ricevuta Ma come faccio a vedere Ma forse sta roba Non lo so Non vedo nessuna icona Delle donazioni Quindi non so come Cazzo Mi sa che non abbiamo La connessione veloce Per quello sta Si è ricevuto Vedi siamo a 4 Vabbè raga Io devo andare Devo andare fra poco Ah si Me ne stavo dimenticando Tra l'altro Allora Cazzo Il cibo Ah si Facciamo il test Così no Oddio Non è un cazzo La barretta no Si ho speso soldi Per un cazzo no Il cracker si però I feel so dirty Ma non mi è arrivato L'ordine di Amazon Sai che è fuori No Dove arriverà domani mattina Allora di sto passo Va bene Dormiamo Vediamo se fanno sogni Incubi Fan dreams È arrivata la mia Oh si certo Qua dentro Oh mio dio Eh certo Leggera Questa trasportare No Ma se la mettiamo qua davanti Quando arriva Ah la mettiamo qua Guarda Poi nel caso La rispostiamo Quando arriva La webcam Quando ordiniamo Oh Fatemi Non so come Il collegamento Dei tubi O questo del genere Non importa Non è importante Vediamo che sono E devo andare a volo Sono solo le nove Posso fare una stream No Sì Idiota Di merda Scendo il pc Dai Windows 98 Parti Parti Posso fare una stream Cioè Mi dicono che si frizza No Scusa Se la mettiamo a mille No Che se non c'è le undici Non ce la faccio No 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 Abort 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 Vado a lavoro Se no Non mi pagano Via Togli il freno a mano Andiamo Oddio Signore Si levi Oh Mi scusi No Sono arrivati Cazzo esci Che lo sono Uscai dei riveli In tempo No Oh cristo Togli il telefono Oddio Lavatevi Dovate la lavoro No Sono arrivati in tempo Cioè È mezzogiorno Tipo 62 dollari Fammi vedere quanto 3 ore di lavoro Ci pagano 62 dollari Devo dire che è un affare Poi dove rimanessimo 10 ore Cazzo Non so Ok Sono raso Gasolù Gasolù No Merda Lo compro la benzina Si ma son bloccato Cazzo Idiota Eh certo Mi vuoi ammazzare Ma muoviti Coglione Ma porca Merda Ma va Ti morisce il cane Di lebra Cazzo Fanculo Nostra madre Aspetta No 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 C'è qua C'è qua C'è qua C'è qua E' ferma Gazzu Guardate Ok Fatto Oddio Che brutta cosa Se un adulto Il responsabile Ah vabbè Lui deve andare al cesso Come sempre Ma chi se ne frega Onestamente al cesso Chi se ne frega Perché tanto Si caga Si pisciata In realtà se possiamo farla dolce E via no Oppure potremmo pisciare E cagare Nella vasca Beh signori Io spesso Quello Mi faccio Dormite Non ancora Però quasi E spesso Quello Vi sia piaciuto Se volete Un'altra parte Spaccate il like Se no La molliamo qui Stasera Perché ve l'avete Qualcosa di Oscena Scena A tutti Spaccate il like